Ecco fatto pure Shrek e vissero felici e contenti dal computer. Io clicco qua. E' giusto pure Shrek e vissero felici e contenti che mi fa divertente questo video che sta qua. Fatto. E' iniziato Moshek e vissero felici e contenti. Eccolo qua. Un re e una regina. Una figlia di nome Fiona. Lei è stata colpita da un terribile incantesimo di John. Una principessa bellissima. Di notte un'orenda orchestra. Il bacio di vero amore poteva sciogliere l'incantesimo. Fiona tendeva in un autore il suo vero amore. Cos'è? E' la regina di Cosi Link. Alle misure di un disperato. Lui avrebbe affrontato il periglioso cammino attraverso i geni di Fredo e l'infocato deserto. Viaggiando per molti giorni e molte notti. E' bello questo video. Certo. Bello. La fatta madrina che... Harold. Eccolo qua. Harold che sta qui. Pure Harold è carino. Ed è bello che sta qui. Lui è ambicuo. E' disonesto. E' tremotino. E' tremotino. Bello. Bello. Bello il quarto capitolo. Signora Altezza. Tanto piacere. Come potete vedere è tutto pronto. Allora vorrete fine all'incantesimo di Fiona. E in cambio voi siglate che è molto molto lontano. Passi a me. Lilian. Anche se... E' pronto Shrek. Vale per noi più di nostra figlia. Harold sto qui. Vostra maestà la principessa è stata salvata. Eccola qua la princip... Ho salvato io. Ecco fatto. E' bello Shrek. Ecco fatto. E' bello Shrek. E vi sono felici e contenti. E' molto... E' più bello questo cartoon. Mi fa molto divertente. Io stacco.